Giuliana Esposito, questa mattina due eventi relativi a due progetti qui a Stecca, di cosa si tratta? Questa mattina partono ufficialmente due progetti molto ambiziosi che il nostro incubatore Stecca assieme a Medarc, che è una società che gestisce il centro di artigianato digitale a Cava dei Tirreni, Conf Commercio Campani e CNA Salerno, stanno promuovendo sui territori della costa del Vesuvio, Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. I due progetti si chiamano Eco Identity e Capacity Maker. Questa mattina partiamo con le attività del progetto Capacity Maker. I progetti sono molto ambiziosi perché hanno la finalità di creare delle figure nuove per la valorizzazione dei valori identitari culturali dei nostri territori, andando a potenziare le capacità degli operatori culturali legati alle filiere dell'artigianato, del design, dell'architettura e della moda. Quindi coinvolgendo anche quelli che sono i settori produttivi di questi territori. Esattamente. Andremo a sviluppare quelle che sono le capacità in termini di innovazione e sostenibilità degli operatori culturali. Questa mattina abbiamo suddiviso la giornata in due momenti diversi. C'è stato un primo tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di operatori turistici e culturali. Successivamente invece si è tenuta una parte aperta al pubblico, un seminario tecnico sulla sostenibilità delle comunità. E quindi c'è un lavoro da fare e da sviluppare proprio in questa direzione. Stamattina siamo qui soprattutto ad inaugurare un progetto molto articolato, soprattutto di grande valore per questo territorio, perché è l'occasione per innalzare le competenze di diversi comparti strategici per questo territorio. Non ultimo il comparto culturale che potrebbe svolgere un ruolo determinante, soprattutto per la riconfigurazione di una politica di sviluppo territoriale. Qual è stato il suo intervento? Abbiamo cercato di focalizzare quelli che sono un po' gli ingredienti determinanti a creare quelle competenze utili ad attivare le comunità. L'altro elemento è stato quello di intercettare queste attitudini che la figura del capacity maker, cioè di questa figura che deve essere un po' l'attivatore delle comunità, deve avere. In che modo queste progettualità possono essere utili e avere ricadute sul territorio? L'amministrazione, in primo luogo con il sindaco Mennella, investe molto su questo tipo di progettualità. D'altra parte Stecca ha proprio la finalità di essere un incubatore da un lato e un proiettore di quelle che sono le progettualità vocazionali del territorio e soprattutto per farne rete con i giovani. Questo è un progetto che il Ministero della Cultura ci ha approvato sostanzialmente all'inizio di quest'anno e vuole lasciare sul territorio delle competenze e delle conoscenze che aiutano le industrie creative ad affrontare le sfide del digitale. Noi lavoriamo su architettura a modo artigianato e con anche l'aspirazione e l'obiettivo di creare poi dei prodotti culturali che possano intercettare sempre più l'interesse dei fruitori del nostro territorio. Lavoriamo su 28 comuni, più di 350 mila abitanti, più di 80 ore di formazione che questi progetti metteranno in essere in maniera totalmente gratuita e una sorta di creazione di ecosistema che poi vuole rilanciare gli operatori dell'industria culturale. Simona Paulillo, CNA Salerno, stamattina qui a Stecca, attore del Greco, per la presentazione di questo importante progetto. Com'è andata? È andata molto bene, abbiamo avviato queste importanti attività che faranno bene a due territori così importanti. Si sconfina dalla provincia di Napoli alla provincia di Salerno, siamo ben lieti di avviare queste nuove progettualità in una sinergia con protagonisti diversi, si va dalla parte tecnica, dalla parte imprenditoriale, quindi crediamo molto in questa contaminazione. Cosa fa la tua start-up e come nasce l'idea? Allora è una start-up, Invoix, fatture automatiche, il nostro obiettivo è quello di automatizzare la fatturazione dell'evento online, siamo operativi ormai sul mercato da più di due anni e abbiamo tantissimi clienti, soprattutto clienti strutturati, SPA, che devono gestire flussi molto importanti per la venta sia su marketplace sia su e-commerce diretto. Grazie per la visione! Grazie per la visione!